Giornata di campionato ragazzi, siamo a un punto dal Bradford e Norwich Oswons, l'ultima volta mi ho fatto schifo, 4 a 1 era finita Ultima giornata, Norwich forse sarà campione d'inverno Questa è la salta lame, perché ho fatto ridere Chi ci metto? Ci metto Fuentes Esordio di Fuentes 30 gennaio 2023, 30 dicembre 2023 Posso giocare, anche se non ha un numero maglia, perché Deve saltare l'ane che non abbiamo sostituti No, no, voglio giocare Soltanto Premier League, c'è anche la EFL Championship Protagonista di questo match davvero affascinante Pubblico Giancato sugli Spartici C'è grande voglia di riassistere un bel match, ora tocca al due squadre, non deludere le attese Questo ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassi E' niente, lo Swansi è superiore Deve salire, lo Swansi deve salire assolutamente Lo Swansi, se lo merita Ogni bordo Ci sono novità sugli altri campi, andiamo a sentire I padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore Ha fatto centro dagli unici metri La messa all'incrocio fuori dalla portata del portiere Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 9 minuti di gioco Grazie dunque per il tuo aggiornamento Con risultati favorevoli anche dagli altri campi I padroni di casa oggi potrebbero portarsi in testa alla classifica E questa è una motivazione extra Al di là di quanto manchi al termine della stagione Essere privi sembra una soddisfazione enorme Significa che il lavoro... Piano Cassio, piano Permetterebbe alla squadra di affrontare mentalmente più liberi i prossimi impegni Niente Bravo Stefano Questo gol è per merito 2 Stef Te lo dedico Ti dedico tutto Sai che l'abbiamo riaperta Un gol facile facile Ma bisognava essere al posto giusto Al momento giusto Hanno pareggiato Dunque 1-1 Bravo Giada C'è un calcio di rigore Credo Sugli altri campi Sentiamo lo studio È stato fischiato un calcio di rigore Per la formazione ospite Hanno sprecato tutto dagli 11 metri Palla che si è stampata Contro la traversa a portiere battuto Sempre un solo gol A dividere le due squadre Quentes È buona per Vico Bravo Quentes È 58 È bravo Ripartono dopo aver conquistato palla Il pubblico sente profumo di gol Vede la squadra in un buon momento Non vuol far mancare la propria spinta Esagera qui E regala la testa Dai, dai, dai Che stanno sotto pressione Palla riconquistata agli avversari Rimessa battuta proprio male La T-Bodier No turn Potrete crossare Bravo, Riese Palla persa Tu cazzo vai A bravo Fermati Bravo L'esperienza Attenzione perché cambia la situazione a Carrow Road Andiamo a sentire le novità Prima rete del match per il Norwich Si sblocca dunque il match 1 a 0 al minuto 38 Perfetto È buona fuori testa È buona fuori testa Oh, me lo ti prego Dice di no con questo intervento Va bene, va bene Sei stato bravo Un po' che abbatterà angoli, no La mette fuori su questo corner Posizione ideale C'è la rispitta qui Prova Un gol incredibile Di minieri Avanti così Ma che di destro Lampard Un minuto di extra time Mamma mia Minieri Forma smagliante E si chiudono qui I primi 45 Perfetto 2 a 1 Il punteggio Dai, dai, dai C'è il segnale La partita al Quentes Andiamo a vedere quanto ha preso dopo Cercano di aprire la difesa avversaria Tra l'altro non era nemmeno una gara facile La prova al cross Lampard Occhio qui alla ripartenza Occasione per il contropiede Ah, è già fatto fuori Guardate qua questo Oh, bafemi Sempre lui Ma che gol ha fatto Ma che gol ha fatto Possiamo rivedere Il gol ha un'altra angolazione Guardate qua se ha fatto Sono fra bravo Mamma mia Ma è bello Bello, bello Obbafemi E non è Obbafemi Martins Perché Obbafemi Martins C'è una capoccia Gli ho fatto una capoccia Incredibile Sono sbagliato Dai, Vigo Sveglia Tocco di ritorno Minieri a giro Posizionato quel portiere Che si è limitato ad accompagnare La conclusione sul fondo Senza intervenire Aveva capito subito Che la palla sarebbe uscita Falso ingresso in campo Dalla panchina Questa o la vinci O la perdi Tutti su Non si può pareggiare questa O la vinciamo O la perdiamo Ci giochiamo il tutto per tutto Bravo Cassetti Bravo Cassetti Li mortacci tua Dai Niente Niente Non si passa Occhio al tiro Tentativo che non crea Nessun problema Al portiere Dai va bene Rosi Guardiano terreno Con la fascia Che cazzo Staffanoso L'ultimo tocca il suo E sarà dunque a calcio d'angolo Hanno l'occasione Dalla bandierina Per mettere la freccia Il pubblico ci crede E continua a incitare La loro squadra Colpa di testa Disinnescato Senza problemi Dal portiere Conclusione debole Nemmeno tanta angolata Difficile che potesse entrare Ferma tutto E riconquista il pallone Mannaggia La troia Dai che con questi cambi Si può fare qualcosa Basta che esce il pallone Bravo Che cuore Cambi da una parte E dall'altra Grande uno contro uno Riconquisto un pallone importante Niente Non ne sa la fare Prosegue qui dell'avanzata Dai Bravo Chiaga Guarda si mi seguono Guarda si mi seguite Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma come si fa Un passaggio così Attenzione Perché cambia la situazione La caro road Andiamo a sentire le novità E' arrivata la seconda rete Per il norwich Punteggio che ora è sul 2 a 0 A 10 dal 90 Sta bene il pareggio a questo Dai Dai La tibodiea Che pezzi di merda Adesso 5 a termine Parità assoluta Non un buon possesso Prova c'è però almeno Possono ripartire dopo il recupero del pallone Attacca la testa bassa a cazza della vittoria Warner No No L'avevo vista dentro Ma porca troia La tibodiea Si giocherà per almeno altri 2 minuti Prova col filtrante profondo Interviene e recupera Cerca la verticalizzazione Oh che fischia Interrompe l'azione e recupera palla Guarda guarda Mamma mia meno male Mamma mia all'ultimo Va bene dai Il peggiore Marise 6.1 Bravo 6 Max S 5.2 Tomassuolo Tomassuolo Grazie a tutti Grazie a tutti